ooooh ciao a tutti ma da quant'è che non faccio un vlog? io oggi per l'occasione straordinaria cioè per l'occasione ho messo anche un po' di disordine come potete vedere oggi io vi leggerò i miei libri però non vi leggerò i libri vi leggerò i titoli dei miei libri della mia biblioteca e ve li voglio leggere non sapendo ne leggere ne scrivere cioè no non sapendo solo scrivere perché leggere sono capace se no non avrei libri per non sapere scrivere io ve li dico in modo non eccessivamente corretto perché? perché ormai è risaputo che c'è la censura no? c'è il bonismo politico per cui non si possono dire certe cose e quindi oggi io vi vado a dire i miei libri dei titoli i titoli dei libri anzi i libri i miei libri i titoli dei libri i titoli ecco qua come vi dicevo per l'evenienza ho creato un po' di disordine visto che non c'è mai per cui io adesso vi vado a partire da sopra perché sopra è giusto che si parta da più sopra vi leggo i titoli dei miei libri allora intanto l'autore Stephen King si può dire allora il miglio viola mister elettrica i vigili del fuoco rosa maddalena camomilla ferrari 9 chi perde ha perso cose un po' insomma di poco valore la torre bianca la serie della torre bianca l'uomo di latta la dolce metà it's your name i lupi del ghiaccio la torre la canzone del sole la sfera della luce la leggenda di Aljon e Jack l'ultimo dei moicani la chiamata non risposta la sfera di Dragon Ball culo bar cinema scrivi al crepar dell'alma il mare in tempesta quattro dopo la spaghettata uscita per Tiburtina l'occhio del bene questo non si può dire la bambina delle bambine cuori e una capanna non si legge la tempesta d'amore re di pivi gli occhi del cuore la casa infestata Dolores de Panza il gioco a carte il gioco a carte mucchio di mele blazer la giacca tutto è tutti American Kid cellulari la chiappa mosche dottore, dottore non ho sonno data da destinarsi il felice il bimbo felice i sogni son desideri pan carré petto sementario povera creatura fast and stats poi de qua l'ombra di Peter Pan il regalo remake vendetta il giorno è pieno di lune fuoriuscita per Biagio Antonacci non ci sono più le stagioni di una volta porta fortuna il meccanico ripara sempre due volte la zona malfamata parco giochi la storia infinibola e poi ci sono quelli che accrescono la fama culturale questa non è narrativa e quindi lo dico insomma allora la vera storia del genio della lampada di Aladino il manuale completo il corano il cigno di colore soldi non ce li ho leggi nella mente dell'impronta come vincere la lotteria e cominciare a vivere come risolvere i problemi di matematica alle superiori come migliorare la vita di coppia e pagare come trattare i cani e farseli i nemici intelligenza psicologa ve lo spiego poi però andiamo dietro perché questi qui dietro ci hanno i sogni sono desideri suggestivi introduzione alla Bibbia i simboli della collettività sincro e asincrono tipi da spiaggia il simbolo dir male from ah no from lo scrittore l'arte dell'hacking psicoanalisi e geologia psicoanalisi e geologia 2 l'anima degli mortacci tua revisione dei problemi a scuola il mito dei miti il codice da vinci e che gioco è questo? non lo so vabbè dall'io all'amore 1 e 2 costellazioni e astrologia istruzioni per l'uso il dialogo con l'aldilà poi magna quanto cazzo te pare l'arte di essere creare l'arte la nobile arte di essere e creare è stupido lo dici a tu zio poi la paura fa 90 pragmatica del pragmatismo l'ipnosi svelata mentre dormi e poi qui c'è l'ipnosi senza le trance di tonno poi cambiare strategia poi c'è trasformare l'ipnosi metamorfosi di franz kafka poi c'è la pratica dell'esoterismo questo 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 qui non si può dire poi l'uomo più ricco da rabbia qui è come quegli altri pensa ai cazzi tuoi tale padre tale figlio prima di andare via spero che resti un po' con me poi il quadraro abbassa il tuo cui con Onlyfans società di capitale poi c'è scritta d'oro e poi c'è il dizionario della lingua italiana e dei tarocchi i tarocchi siciliani poi passiamo sotto ah no aspetta c'è sta pure due anzi tre la pace sia con voi e poi c'è e con il tuo spirito poi non ci scordiamo di minecraft poi c'è sotto l'ira funesta di Rodovico Ariosto poi c'è la fisica che ci piace la mucca carolina il signore della maionese poi abbiamo gli abusi fisici e mentali degli uomini contro gli altri uomini a circhi di del poi c'abbiamo fa quello che cazzo te pare non mi rompe i coglioni ma te n'affanculo te pieteran terra piattista evoluzionista queste cose così insomma che dicono i pseudoscienziati poi pochi ricchi e tanti bros biologia del cagare poi c'è sì poi abbiamo attenzione attenzione qui andiamo sul pesante non mi ricordo più un cazzo la morte si ti fa bella il calciatore questo non non so cosa sia questo il povero tizio che non capisce niente poi c'è il cambiamento terapeutico aspetta c'ho due cambiamenti i cambiamenti terapeutici e il cambiamento terapeutico che sta qui sotto che è marrone color merda poi c'abbiamo prendilo in culo poi la società degli magnaccioni poi vabbè questo non è in titolo però è un autore è aristotele poi super tele poi c'abbiamo c'abbiamo attenzione e i canditi nel panettone non ci vanno l'arte di dell'inganno poi c'abbiamo ricordati di me poi c'abbiamo un altro sorcate mille libri sotto i mari poi c'abbiamo questo questo non si può questo non si può proprio gli insegnamenti del maestro zen poi abbiamo le mano poi abbiamo paese che vai usanza che trovi lo spirito delle fiabbe poi abbiamo petardi del regno si mi pare che si dice così una un cuore una capanna due cuori in una capanna il libro dei morti viventi poi abbiamo sta in fondo non si legge bene poi gli uomini e le donne vengono da da Roma non lo so da qualche parte io sono io poi la scienza naturale voi non siete un cazzo poi la bibbia poi hai tutto nella testa non essere triste o vedi che è così come le dicevo io che è questo qua o vedi che è così poi la fabbrica di cioccolato poi abbiamo aspetta abbiamo piccolo non so cosa sia poi abbiamo un programma un programma per computer poi perdersi a Napoli nelle stradine interne poi affogati strade perdute io vedo la gente morta lo spazio infinito poi là dietro c'è sta qualcosa e poi Stephen King bene il vlog è finito per cui io mi metto a montarlo perché lo devo montare ah mi sono dimenticato l'ultimo i fiori appassiti e altre stronzate che è l'ultimo libro che ho qua sopra perché l'ho letto ho letto una poesia e che andate a vedere su uno short credo l'abbia comunque già detta ecco adesso io accenderei questa perché devo mettermi a montare questo video perché sennò se io non lo monto e faccio vedere tutti gli errori poi vabbè capite insomma che è una cosa un po' disonesta quindi io vi ringrazio per aver visto tutti i titoli dei miei libri se arriviamo a 10 like io ve le leggo uno ve leggo non lo so una una trama del retro di un libro oppure il prezzo vi leggo non lo so quindi fatemi sapere nei commenti cosa volete che vi legga il titolo è cascato il telefono il titolo è ben preciso e niente ci vediamo ciao 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 Grazie a tutti